La classe capovolta è un movimento di insegnanti, è un movimento internazionale, che esiste in Italia solo da due anni e che prende spunto da una metodica che si chiama flipped learning, che ha origine negli Stati Uniti e che nel giro di pochi anni si è diffusa in tutti i paesi del mondo e oggi abbiamo almeno 100.000 insegnanti nel mondo che la adottano. La classe capovolta o flipped learning è un tipo di apprendimento nel quale gli studenti cambiano il proprio ruolo, e gli insegnanti cambiano il proprio ruolo. Gli insegnanti non sono più coloro che trasmettono il sapere e gli studenti non sono più quelli che lo ricevono. Gli studenti sono invece quelli che devono costruire piano piano il proprio sapere attraverso un sistema di aiuti che noi riusciamo a proporre attraverso il digitale. Gli insegnanti sono coloro che aiutano gli studenti ad affrontare questa difficoltà, sono i facilitatori, sono i coach, coloro che danno quei suggerimenti necessari per poter affrontare lo studio, l'impegno dello studio e tutto ciò che è correlato all'impegno dello studio nel modo migliore possibile. La classe capovolta si chiama così perché noi invertiamo gli spazi e i tempi, o meglio, lo spazio della scuola, della classe, viene utilizzato per le attività e non per l'apprendimento. Tutto ciò che è apprendimento invece si cerca di fare avvenire a casa, dove lo studente troverà dei video predisposti dall'insegnante e del materiale di lettura, sempre predisposto dall'insegnante, che gli permetterà di avere in anticipo quello che nella scuola, a scuola verrà fatto come attività. L'attività quindi è anch'essa un apprendimento, ma è un apprendimento reale, non è un apprendimento di colui che riceve un contenuto, ma è colui che costruisce il contenuto da sé attraverso il lavoro di un compito autentico. E il compito autentico è quello che facciamo in classe. Non facciamo lezioni, non facciamo interrogazioni, ma mettiamo i ragazzi di fronte a delle problematiche da risolvere. Dei casi di studio si possono anche chiamare, authentic tasks o difficult tasks, a secondo di come le volete chiamare. In tutto il mondo si upsano queste tecniche, che favoriscono l'apprendimento molto più profondamente, perché dandomi un problema da risolvere, mettono in moto tutti quei meccanismi cerebrali che favoriscono la memorizzazione a lungo termine e favoriscono lo sviluppo di quelle capacità creative e logiche che altrimenti sarebbero affossate in un insegnamento tradizionale. Perché la classe cavovolta è considerata oggi veramente innovativa? E perché viene così apprezzata anche da tanti insegnanti che trovano nella classe cavovolta la risposta alle loro esigenze, non solo di innovazione, ma di reale rapporto umano con gli studenti. Questo che manca è quello che manca, questo rapporto umano viene ricreato nella mattinata insieme al lavoro dei studenti che sono in genere messi in coppia a lavorare o in piccoli gruppi e questo tipo di attività cambia il clima della classe. Il clima della classe non è più una classe che deve ascoltare, non è più una classe che deve semplicemente dimostrare le proprie capacità di memorizzare i contenuti, ma la classe deve dimostrare invece quelle capacità che vedete anche nel manifesto alle mie spalle, che è il vecchio manifesto delle tassonomie di Bloom, un manifesto che abbiamo rimesso in classe dopo 50 anni, perché Bloom scrisse queste cose 50 anni fa, inascoltato. Bloom diceva che semplicemente memorizzare o semplicemente comprendere non basta per creare quelle competenze che servono realmente nella vita. Lui diceva che serve la capacità di analisi, la capacità di sintesi, la capacità di risolvere i problemi, le capacità creative e queste cose in un apprendimento tradizionale non sono sviluppate. Ecco, noi diciamo che in un insegnamento tradizionale normalmente si sviluppano solo le prime due fasi della tassonomia di Bloom, quelle che normalmente sono fatte a scuola e a casa con le lezioni e le interrogazioni. Noi facciamo altro, noi sviluppiamo tutte quelle competenze, che sono le otto competenze europee e che noi appendiamo nelle nostre classi come manifesti, perché sono estremamente significativi oggi per gli stessi studenti che capiscono che ormai la storia, la matematica, la geografia, l'inglese, le scienze da sole non possono modificare realmente le loro possibilità di lavoro quando diventeranno adulti. Hanno bisogno di qualcos'altro. Questo qualcos'altro sono le competenze europee, proprio quelle capacità di esprimersi nella madrelingua, di risolvere i problemi, di imparare da soli, l'autoapprendimento, di lavorare in gruppo, saper lavorare in gruppo, che è un'altra competenza difficilissima, che o sviluppiamo a scuola oppure nella vita, la vita sarà tutta quanta come una riunione di condominio, litigiosa. Nella classe capovolta l'insegnante ha bisogno di predisporre un sito dove metterà le cose che si fanno in classe e le cose che si fanno a casa. Lo studente trova una piattaforma su cui lavorare. Questa piattaforma è fatta da una parte che si chiama attività in classe e da una seconda parte che si chiama compiti per casa. L'attività in classe è la serie di tutte quante quelle attività che si faranno in classe, normalmente in coppia o in gruppo, raramente da soli. La seconda parte riguarda i compiti per casa sono invece tutte quelle attività che il studente dovrà svolgere a casa preparative all'attività in classe. Quindi se l'attività in classe sarà sui passaggi di stato, il video da vedere a casa avrà lo stesso argomento. L'attività in classe non chiederà semplicemente di ripetere quello che ha visto a casa, non sarà quindi una ripetizione di contenuti come le interrogazioni, ma sarà sempre un'attività creativa di analisi o di sintesi in cui ci sarà da produrre un qualcosa di materiale più possibile simile alla realtà reale e non alla realtà scolastica. E questo compito sarà diverso giorno per giorno. Sul sito l'insegnante metterà tutte queste cose piano piano, con lentezza, però dovrà sul proprio sito mettere tutte le attività che farà dal primo all'ultimo giorno di scuola, in modo che i ragazzi avranno quel sito sempre come riferimento di lavoro.